Martedì 13 luglio 2021, un cordale saluto a tutti voi carissimi amici radioascoltatori e benvenuti ad un nuovo appuntamento con Edicola Bellun, la rassegna stampa di Radio ABM. Un saluto anche a chi ci sta guardando in diretta dalla pagina Facebook di Radio ABM, dal canale YouTube dell'Associazione Bellunesi nel Mondo, dagli studi di Radio ABM via Cavoltrea Belluno, Marco Crepas vi accompagnerà nella lettura dei quotidiani Il Gazzettino e il Corriere delle Alpi, quotidiani dedicati alla provincia di Belluno. Diamo quindi subito uno sguardo ai titoli presenti nelle due prime pagine e cominciamo con la prima pagina del Corriere delle Alpi, ecco come si apre l'edizione di oggi, ovviamente ancora spazio agli europei che ha visto protagonisti e vincitori gli italiani con la nazionale titolo Euro 2020, Mattarella e Draghi, avete unito l'Italia. Gli azzurri, come si può vedere da questo scatto, ricevuti dal presidente e dal premier dopo il successo di Londra, Chiellini ricorda a stori. L'approfondimento lo troveremo da pagina 2 a pagina 11. Abbiamo un richiamo anche in merito ai nostri emigranti che hanno partecipato alla partita in Inghilterra a Wembley, emozione comitiva feltrina nel tempo del trionfo. L'approfondimento di Valente lo troveremo a pagina 11 e in questo scatto comunque per chi ci sta guardando da Facebook o YouTube appunto la famiglia feltrina che è andata a vedere la partita, la finale Italia-Inghilterra. Ma ecco la notizia in primo piano che ci porta in provincia di Belluno. Meteo e sensori per salvare i paesi da sassi e fango. Arpave Università a lavoro sull'allerta anticipata delle colate detritiche. Primi interventi ai piedi dell'Antelao, occhi puntati su Cancia e Peaio. L'approfondimento di Alessia Forzina lo troveremo a pagina 21. Il piano provinciale, spuntoni ereti contro i piccioni, abbattimenti ultima spiaggia. Il consigliere delegato De Bon, delegato della provincia di Belluno, partiamo con le misure di contenimento ecologiche. Se non funzionano ci saranno i prelievi. Feltre, bugie su bugie per spillar soldi al sacerdote. Condannata la donna sotto falso nome, raccontò di essere uscita dal carcere. Si fece dare dal sacerdote più di 8.000 euro l'approfondimento di contento a pagina 2. E ancora, in questo scatto, vediamo il sindaco di Cortina d'Ampezzo. Campagna antirifiuti, Cortina schiera le formiche a fumetti. Il rischio sanitario, Crisanti avverte, con le varianti illibere tutti, è pericoloso. E ancora, per quanto all'emergenza Covid-19, notizia che ci porta in provincia di Belluno. Positivi bellunesi tornati a livello di un mese fa. Il focolaio scoppiato nel Feltrino ha fatto balzare in alto l'incidenza dei nuovi casi di coronavirus. decuplicati nel giro di due settimane. Il numero dei positivi è tornato a quello di un mese fa. L'approfondimento di Dallanese lo troveremo a pagina 14. Questa dunque è la prima pagina del Corriere delle Alpi. Passiamo adesso alla prima pagina del Gazzettino. Incominciamo con l'edizione nazionale per proseguire con l'edizione riferita alla provincia di Belluno. Ecco quindi la prima pagina dell'edizione nazionale. Dalle feste in piazza alla paura dei contagi. Questo è il titolo principale. OMS, scusate, e scienziati. Pagheremo effetti tra dieci giorni. Zaia, mascherina all'aperto. Se ci sono assembramenti. Fa davvero ridere questo accostamento appunto dell'allarme, dell'appello appunto dei prossimi contagi. Sì, e appunto le mascherine all'aperto ci sono assembramenti. Poi vediamo la fotografia messa in primo piano dal Gazzettino Euro 2020. I campioni d'Europa da Mattarella e Draghi. Italia, orgoglio nazionale. Vediamo appunto il totale assembramento che si vede senza mascherine. Va bene. L'approfondimento comunque in merito all'orgoglio nazionale lo troveremo a pagina 2 del Gazzettino. Il focus PIL effetti europei vale 12 miliardi per l'export e il turismo. Gli inglesi, quelli sguardi anicheliti dopo la vigilia da Spavalti. Notizia quindi che richiama sempre la vittoria della nazionale italiana per quanto riguarda gli europei. Il mio mose, la sfida per salvare Venezia. Altro approfondimento che troveremo all'interno del Gazzettino. Richiamo per quanto riguarda invece il Gazzettino di Belluno. Auro Onzo Brusaferro dell'Istituto Superiore della Sanità da Misurina. Ecco come respirare meglio. L'approfondimento di Fante lo troveremo a pagina 3 dell'inserto dedicato appunto alla provincia di Belluno. Ma addentriamoci all'interno del Gazzettino edizione nazionale. In primo piano il rientro della nazionale italiana in Italia. I campioni, questo è il titolo. Mattarella e Draghi, impresa meritata. Poi il bagno di folla. Gli azzurri al Colle a Palazzo Chigi. Mancini, un onore. Il ricordo di Astori. Tura Roma sul bus scoperto ottenuto dalla squadra dopo una lunga trattativa. Il Premier, grazie a voi, siamo al centro dell'Europa. Battute e ovazione per Donna Roma. Ed ecco una fotografia che rappresenta la squadra, la nazionale con al centro il Presidente della Repubblica, Sergio Mattarella. L'Europa ci celebra tutti i pazzi per l'Italia. La stampa e i politici stranieri, i francesi compresi, esaltano il successo azzurro. Il racconto dei nostri concittadini in Scozia. Edimburgo sembrava Napoli. Anche New York Times cita la nazionale. La vittoria amplifica la rinascita del paese. La vittoria dell'Italia feco a una rinascita più forte. Così New York Times che scrive Draghi ha portato il paese sul palco away da giocatore marginale a forza trainante. La squadra alla lezione dei ventenni che non aspettano e giocano in attacco. Un gruppo spavaldo e ricco di talento ha ribaltato i luoghi comuni di un paese. Non siamo più quelli del catenaccio e ai rigori facciamo piangere gli altri. Abbiamo occupato quasi sempre la metà campo avversaria senza complessi di inferiorità. La nazionale dei Donnarumma, una generazione che ha già vinto senza mettersi in coda. E questa è l'Italia agli europei. L'età media dei calciatori italiani è di 27 anni. Il più giovane Raspadori ne ha 21 anni. Il più vecchio Chiellini ne ha 36. La media dell'altezza è di 180 centimetri. Il peso, la media sempre di 75 chili. Il baricentro alto 54,1 metri contro l'Inghilterra 50,6 metri. Tesserati per Juve, Mila e Inter sono 7 su 26. Nati in città con più di 200.000 abitanti, 3 su 26. 11 giocatori sposati, 16 giocatori con almeno un figlio. Tre i giocatori iscritti all'università, un giocatore laureato in questo caso è Chiellini. Quindi la carta d'identità dei giocatori della nazionale italiana l'abbiamo letta per voi. Quegli sguardi annichiliti dopo una vigilia spavalda. Gli inglesi erano certi che sarebbe stata la volta buona. Il calcio sta tornando a casa. Il post di Boris Johnson con la maglia alzeranno la coppa. Poi la doccia gelata. E vediamo in questo scatto la delusione di un paese nei volti dei duchi di Cambridge. Il principe William, la moglie Kate e il loro primo genito George domenica sera in tribuna d'onore a Wembley. Li vediamo appunto delusi per il fatto che la loro squadra ha perso contro l'Italia. Il primo ministro dopo la finale, cuore spezzato per Southgate, era già pronto il titolo di baronetto. Le ricadute, effetto Euro 2020 sul PIL, vale 12 miliardi per export e turismo, col diretti spinta al Made in Italy e ai flussi turistici in arrivo dall'estero. Gravina a Draghi. L'impatto sulla crescita vale lo 0,7%, Italia più ricca e inclusiva. Quindi queste le ricadute anche in merito alla vittoria della nostra nazionale agli europei 2020. Ancora notizie, tante le notizie in questa edizione del Gazzettino riferite alla vittoria dell'Italia agli europei 2020. Più fiducia serve a crescere una lezione per fare squadra. Il parallelo con la vittoria ai mondiali 2006 vissuta da Premier. Vincere da sicurezza. Tifo, sembramenti, piazze a rischio contagio. L'OMS la pagheremo. Van Krekov dell'Organizzazione Mondiale. La variante ne approfitterà. Pregliasco, immaginabile, almeno una triplicazione dei positivi entro fine mese. Ed ecco, infatti, uno dei caroselli e le feste nelle piazze. Qui si celebra la vittoria a Roma in piazza Venezia. Tutti senza mascherine, tutti appiccicati. Annuncio di Macron in TV. Accesso a luoghi pubblici solo con il documento green. Il presidente francese. Dobbiamo porci il problema del vaccino obbligatorio per tutti. E sempre a proposito di emergenza Covid. Passa solo con il secondo vaccino. Ipotesi mascherine all'aperto. Aumentano i contagi e tornano a crescere i ricoveri. Le mostre del governo anti chiusure. Il tampone potrebbe non bastare più per l'immunità. Emergenza fino a ottobre. Questi i dati registrati nelle ultime 24 ore. Più 888 nuovi casi. E con 13 decessi. Dati che riguardano il nostro paese. Ma continuiamo con la ripartenza del nord-est. Uno dei ragazzi trevigiani contagiato in Inghilterra ma ha nascosto la positività. Ricostruita all'origine del focolaio che ha portato finora all'isolamento di 135 persone. Il giovane si era sottoposto a un tampone fai-da-te ma non aveva avvertito la USL. Politica a scontro sull'omofobia. Il DDL Zan arriva in aula ma il governo preme per il rinvio a settembre. Oggi in Senato alvia il voto ma solo sulle pregiudiziali di costituzionalità. Poi tempi lunghi per gli emendamenti. Rischio ingorgo con 5 decreti e nomine RAI. Fatti di cronaca. Droga al marito. Lo soffoca e confessa ai carabinieri. Stufa di subire violenze. Il delitto nell'Alessandrino. La donna maltrattava da tempo me e mio figlio. Gli ha messo il sedativo in una bevanda. I suoi difensori chiederanno i domiciliari. E ancora spara non pregiudicato. Malcolpiscono pure il nipote. Bimbo di 6 anni in coma. Sansevero. Siamo a Roma. Ha ucciso il 42enne Matteo Anastasio. Ipotesi e regolamento di conti nel mondo dello spaccio. Altri fatti di cronaca. In vestì e uccise un uomo perdonata. Non regge e si getta sotto un treno. Giulia, due anni fa, era sotto l'effetto di droghe. Quando travolse Valerio Nigrelli, la famiglia della vittima, sapevamo che la sua vita non era più la stessa notizia che ci porta in Veneto, in provincia di Padova. Condannata a quattro anni. Non aveva potuto iniziare a scontare la pena con l'affidamento ai servizi sociali. I liquidatori. I numeri dicono che Veneto Banca era fallita già nel 2013. Il commissario. L'aumento di capitale a posteriori non solo non ha risolto i problemi, ma ne ha creati di più. Grandi notizia che riguarda una delle due banche venete fallite che ha portato anche in ginocchio molti loro clienti. Scoppia la rivolta a Cuba, fatti di carattere internazionale, bassa con la dittatura, alto là di Mosca agli Stati Uniti, migliaia in piazza per la crisi economica non accadeva da 30 anni e Biden, il presidente degli Stati Uniti, gli appoggia scontri e centinaia di arresti in 25 città. Il governo si difende. È colpa dell'embargo. Passiamo adesso all'edizione del Gazzettino di Belluno, notizie quindi riferite al territorio bellunese. Addentriamoci al suo interno con pagina 2. la festa bomba di contagi, l'allarme del presidente dell'Ordine dei Medici Capelli dopo gli assembramenti senza mascherina a fine europeo. Migliaia di persone in piazza dopo la vittoria, nessun danno, ma tra dieci giorni si conosceranno le conseguenze dell'epidemia. Ed ecco alcuni scatti appunto di come si presentava Piazza Martiri domenica notte per festeggiare la vittoria della nazionale italiana e ovviamente, guardate lì, senza rispettare nessun distanziamento, senza mascherina, ma veramente ci chiediamo ma le forze dell'ordine dove erano questa domanda? Continuiamo a porcela. La curva torna a crescere, i casi raddoppiati in 12 giorni, quasi tutti nel feltrino. Avanti con i vaccini, dopo la consulta della protezione civile, il nostro supporto non verrà mai meno. E questa è la mappa dei contagi, perché si sta guardando da Facebook o YouTube. Ecco la mappa della provincia di Belluno. Attualmente i comuni che hanno un'incidenza maggiore rispetto alle altre zone della provincia di Belluno sono il comune di San Gregorio nelle Alpi, Cesio Maggiore, Santa Giustina, Pedavena, Lamon, Arsie, Borgo Valbelluna, Cuarovas e Alano. Il picco più alto viene registrato in questo caso con un colore molto più acceso dal comune di Alano. Passiamo adesso ad Auronzo. Il centro asma di Misurina fa scuola, così respirate meglio anche a casa. Ieri ad Auronzo, presentato allo studio dell'Istituto Superiore di Sanità, c'era il presidente Brusaferro. Il gruppo di studio con l'Istituto Superiore di Sanità e il Pio XII ha creato un vademecon per rendere pura l'aria in casa. Noi non lo sappiamo, ma negli ambienti in cui viviamo ci sono molti inquinanti. Brusaferro, fondamentali scienza e ricerca, fatte di scelte quotidiane come il vaccino. E sempre a proposito dell'Istituto, presente sulle sponde del lago di Misurina, incura 40 bimbi, ma molti pediatri non ci credono. Nonostante la resistenza di alcuni medici, il centro è rinato dopo il rischio di chiusura di due anni fa. Siamo a pagina 5 del Gazzettino di Belluno, l'organico e all'osso carabinieri in congedo al lavoro in prefettura. Patto tra l'Associazione degli Ex Militari e Palazzo dei Rettori, un esercito di 700 persone in aiuto all'attività degli uffici. E ancora a cantieri infiniti in A27, il caso finisce in Consiglio Comunale, Consiglio Comunale del Capoluogo Bellunese. Rimaniamo a Belluno, piante in strada, comune contro l'ex dirigente, l'ingegner Flavio Burigo, multato per la vegetazione che dava su Col Cavaliere. L'odissea giudiziaria non cancella la sanzione, Palazzo Rosso si è sempre occupato delle manutenzioni e alla fine abbatte le piante che davano sulla pubblica via. E sempre da Belluno, Bristot, verde abbandonato dal 2012, il consigliere si mette a mano al portafoglio e si torna a curare le aree verdi come dieci anni fa. Multe dagli accertatori Belluno, ma ricorsi inutili lo prevede la legge, notizia sempre che riguarda il capoluogo bellunese. Passiamo invece al Feltrino con pagina 8 del Gazzettino di Belluno. Feltre, Driole, Rive nel degrado, la questione arriva in aula. Interrogazione della minoranza sulle condizioni di abbandono dell'intera area. Vediamo appunto uno scatto che rappresenta la zona di degrado della città di Feltre. Sempre da Feltre, notizia di spalle, in 200 a Celarda per la pedonata Trastoria e Natura, molto soddisfatti gli organizzatori della Feltrese. E ancora altre due notizie da Feltre, trenino TED al posto degli ascensori per permettere ai cittadini, ai turisti di raggiungere con facilità e comodità il centro storico della cittadella. E ancora a Feltre, il milito ignoto e cittadino onorario, arriva al via libera dell'assise municipale al riconoscimento promosso su scala nazionale dall'ANA. Cesio Maggiore, Valcanzò, i notte blindate, campeggio sulla Orsera, un'ordinanza del sindaco per porre fine al degrado che guastò la scorsa estate, permanenza consentita nell'unica area attrezzata, previste multe fino a 500 euro. San Gregoronelle Alpi, All4Life, dona un defibrillatore alla casera aeree. Lamon, Ponte Serra, ufficio turistico aperto nei weekend in luglio. Borgo, Valbelluna, trattative private su ACC, bisogna aspettare la gara, l'azienda al centro delle attenzioni, la FIU, ma rispettiamo le regole esistenti, una situazione che rischia di spaventare i potenziali acquirenti senza chiarezze. Da Sospirolo, servizio mensa da 346 mila euro senza usa e getta, oggi il sorteggio dei concorrenti da invitare alla gara. E ancora a Longarone, la commerciante centenaria scampata al Vajonte. Ed ecco qui, il sindaco Roberto Padrin, che rende omaggio a Caterina Filippin, è stata riferimento per la crescita del paese. Selva di Cadore, giù la casa con slogan fascista, l'ex sindaco ora meglio così. Ha battuto un rudere con una scritta risalente al ventennio, il paese è diviso, Silvia Cestaro plaude alla scelta del proprietario, torna il decoro in centro. Da Colle Santa Lucia, tuffo nella storia, riapre i battenti la Cessa de Jeanne al museo dedicato alla tradizione latina, ladina scusate, visite contingentate. In esposizione una serie di rassegne che ruotano sulla cultura della minoranza dell'alta provincia. Voltago sotto lo schianto, porcino da oltre un chilo, guardate che meraviglioso porcino, qua si potrà mangiare un gustoso risotto o delle lasagne ai porcini. Continuiamo con il Cadore. Per Arolo riapre l'unico bar del paese, posso fornire anche il pane. I nuovi gestori festeggiati dai residenti, privi anche di un negozio di alimentari, non si esclude di poter presto creare un angolo riservato a un minimarket. Da Calalzo di Cadore, notizia di spalle, otto posti camper con vista sul lago, turismo che vale, inaugurata l'area, settore in crescita che non è di serie B. Passiamo adesso all'edizione del Corriere delle Alpe. Adentriamoci immediatamente al suo interno con le notizie riferite alla provincia di Belluno. Facciamo anche una panoramica degli scatti che riguardano l'arrivo della Nazionale in Italia. Anche qua tantissimi assembramenti, ma concentriamoci sulla notizia. Tante le prime pagine dei quotidiani internazionali dedicati alla Nazionale italiana. Chi trova un amico trova un tesoro, Mancini e Viali, una vita dietro le lacrime. Ed ecco appunto i due ex calciatori con un forte abbraccio e con le lacrime. Ecco altri scatti della vittoria della Nazionale italiana con in mano la Coppa. E l'arrivo a Roma con l'incontro con il presidente del Consiglio Draghi, con il presidente della Repubblica Mattarella. La mandiamo avanti con la notizia che riguarda invece in questo caso gli Euro 2020, ma anche la provincia di Belluno. La comitiva Feltrina conquista Wembley, che emozione le notti magiche. Alessia Zannin con marito e figlio e Alessio Beino nella curva italiana. All'arrivo tanti inglesi ubriachi, ma la polizia sa gestire gli hooligan. Questa è la dichiarazione appunto della famigliola Feltrina che è andata ad assistere personalmente la finale Italia-Inghilterra di domenica scorsa. Continuiamo con la provincia di Belluno. Allarme in provincia, il numero dei positivi è tornato a salire. Interessati 11 comuni. Il report dell'USL numero 1. Dolomiti evidenza il balzo in avanti. L'incidenza decuplicata in appena due settimane. Nel focolaio scoppiato nel Feltrino alla fine di giugno ha coinvolto oltre 20 giovani che hanno partecipato alla pedavena K, ha fatto balzare in alto l'incidenza di nuovi casi di coronavirus. Studenti in giro per l'Europa. Il vaccino, poi la vacanza, lavoro. Il progetto europeo coinvolge 143 ragazzi delle superiori bellunesi. Due rinunce hanno voluto evitare la dose e i tamponi in serie. Ma ancora dalla provincia di Belluno. Scorriamo velocemente le pagine del Corriere. Siamo a pagina 21. Territorio fragile. Prevede prevedere le colate con sensori e meteo. Allerta anticipata per evacuare le case. Il progetto di Arpave Università prevede l'integrazione di dati e modelli di innesco. Sarà sviluppato a Cancia e a Peaio. L'articolo è firma di Alessia Forzin. Monitorare per prevenire. Si muove su questi binari. Il progetto Inadef sviluppato da Arpave Università di Udine e Padova. Il Centro federale austriaco per la ricerca forestale e servizio meteorologico e geofisico nazionale dell'Austria. Che punta a sviluppare un sistema di allarme che riconosca gli eventi di colate detritica. Con un anticipo tale che consenta di intervenire prima che essi avvengano a tutela della popolazione. Sotto la lente il boccino del rio Rudan. Potenziati pluviometri e telecamere. Nella notizia in questo caso ci porta a vodo di cadore. Da Longarone tira il settore dell'acetato. Saffilo sposta i lavoratori e aumenta i turni di lavoro. Notizia in questo caso positiva per quanto riguarda l'azienda di Longarone. Sempre da Longarone, scommessa cinese per la Marcolin. Nuova sede a Shanghai. Bando per 22 medici, 4 infermieri arrolati per i vaccini. Notizia riferita all'USL numero 1 Dolomiti. E ancora pagina 23, ambiente pronto al piano anti-colombi. Reti, spuntoni, antinido e divieti. La provincia ha ritirato il documento avarato nel 2020 in attesa di quello regionale. De Bon, attivare tutte le misure ecologiche se non funzionano via i prelievi. Malati infettive, zecche, già registrati tra i casi di tibie in aumento i malati di borregliosi. E ancora pagina 24, interventi a difesa di pedoni ciclisti. Notizia che ci porta nel comune di Belluno. Al via i lavori per costruire tre dossi a Cavarzano e Nogaret. Sull'asfalto saranno disegnate numerose corsie ciclabili. Sanità, un team specialistico per curare gli occhi dei bambini più piccoli. Compie 10 anni, il nucleo operativo del San Martino. Trattati 380 pazienti affetti da strabismo e altre patologie. In questo scatto vediamo la primaria diocolistica del San Martino, Luigina Tollot. Altre notizie che troviamo in questa pagina. Pagina 25 del Corriere delle Alpi. Fatti di cronaca giudiziaria. Molesta l'ex Luminaccia, condannata a sette mesi. Investimenti spariti, promotore a processo. Pagina 26, Feltre. Scalinata altriole rive. Malmessa e pericolosa il comune intervenga. Notizia che abbiamo già trovato anche nell'edizione del Gazzettino di Belluno. Notizia di spalle. Invece rimaniamo sempre a Feltre. Biblioteca chiusa per restituire i libri. Arriva il nuovo box. Restituzione dei libri 24 ore su 24 in un'ottica di miglioramento della fruibilità dei servizi della biblioteca. In questo caso della biblioteca di Feltre. Truffò e derubò il parroco. Oltre tre anni di reclusione. Il verdetto per Franca Levadovic che spillò 8.600 euro al sacerdote di Prenne. La procura ha chiesto dieci mesi e una soluzione. La difesa annuncia l'appello. Tre anni e due mesi di reclusione. 500 euro di multa. Condanna pesante per Franca Levadovic, 48enne originaria di Oderzo. Accusata di truffa e furto ai danni del parroco di Prenne, Lamene e Vignui. Fra raggiri e ammanchi di contante, secondo la procura, i conti non tornano per 8.600 euro a Don Severino Cecchin. Soldi mai più visti. Almeno 8.200 euro erano frutto di aiuti per la situazione di disagio che gli veniva rappresentata dalla donna. Basso Feltrino, 8 mesi allo stalker, attaccò le foto dell'ex sulla posta del palazzo. Ieri il verdetto nei confronti di un 25enne dovrà risarcire la parte civile di 10.000 euro. Processo in rito abbreviato. E sempre dal Basso Feltrino, drastico taglio ai costi per allacciamenti e volture alla rete idrica. Di tutto questo se ne è parlato alla Assemblea ATS. Pagina 29. Borgo Valbelluna, Cesari lancia l'allarme Medici. Altre uscite, situazione critica. Borgo Valbelluna, uno spiraglio sulla guardia medica. Problema, possibile soluzione dopo l'estate. I problemi aperti sul territorio. Il sindaco difende il progetto della rotatoria. Benefici per tutti. Ecco alcune dichiarazioni del sindaco di Borgo Valbelluna che vediamo in questo scatto. Su ACC c'è poca chiarezza e sono molto preoccupato per i lavoratori. La situazione di Ideal va verificata meglio. Aspettiamo di vedere il piano industriale. Pagina 30. L'universitaria Veronica da Ponte alla Francia per studiare le scimmie. La studentessa fa l'erasmus al parco zoo di Buval nella valle della Loira. Non mi interessano dal punto di vista medico. Mi concentro sui loro comportamenti. Ed ecco uno scatto della giovane belonese durante il suo studio antropologico. Longarone un fine settimana nel ricordo del dramma della guerra nei Balcani e da Ponte nelle Alpi stravagaria. Giovedì c'è musica brasiliana. Notizie anche dall'Alpago. La società ciclistica Alpago ha trovato casa la Mosano. Inaugurato alla nuova sede all'ex asilo. Pala ghiaccio. Siamo ad Alleghe a Gordino. Patinare sul ghiaccio d'estate è possibile al Detoni di Alleghe. Numeri incoraggianti tra turisti e anche locali. nei primi zone di apertura il presidente dell'Hockey Levis. Il nostro impianto è un vero fiore all'occhiello. E sempre dalla Gordino, Alto a Gordino, Passo Pordò, i lavori in corso per l'interamento dei cavi. Ieri è nell'istribuzione di Enel. Ha iniziato l'intervento soddisfatto il sindaco Grones e rimina uno dei tanti impatti ambientali sulle Dolomiti. E ancora dalla Gordino, gli alpini del Monte Civetta hanno festeggiato i 90 anni. Due giorni, cerimonia d'Alleghe per lo storico gruppo di Penne Nere. Il gran finale ai piani di Pezzè, dove si tenne il giuramento nel 2000. Pagina 32, Cortina. Dice basta, rifiuti in alta quota. In aiuto arrivano le formiche di Vettori. Campagna ecologista della giunta Ghedina. Cartelloni lungo i sentieri e giochi per bimbi per educare gli escursionisti. Ed ecco appunto la cartolina realizzata dallo storico illustratore Trentino Vettori, che rappresenta appunto Cortina e delle formiche davvero ligge, che fanno la raccolta differenziata ovviamente per tutelare la salute ambientale della propria città. Ambasciatori digitali delle Olimpiadi 2026, otto inizia per lo scettro. Milano-Cortina 2026 ed ecco gli otto influencer che si giocheranno il titolo del 2026 Ambassador Challenge. Auronzo, la qualità dell'aria nelle nostre case, la sinergia ISS, Istituto Superiore della Sanità più dodicesimo, dai primi risultati, notizia che abbiamo trovato anche nell'edizione del Corriere del Gazzettino, scusate. Dalla rubrica Cultura e Società, il personaggio, il professor Latini e l'elogio della lentezza, la ricerca approfondita regala i veri tesori. Il vicepresidente della Fondazione Benetton, affidata alla delega alla direzione dopo la morte di Marco Tamaro, scomparso un anno fa. Rubrica Giorno e Notte, la scoperta di Cor con il FAI Giovani, torna domenica 18 alla rassegna FAI, un giro in villa, visita al sito castronese che ospitava il castello medievale. Ed ecco appunto una veduta della villa della famiglia Zampieri e del sito che ospitava l'antico castello di Cor, che sarà appunto la meta della visita organizzata dal FAI. Da giovedì il circolo Mario Morales al Miramonti di Cortina, Limana, poesie di Daniela Dinka, giovedì in biblioteca. E ancora a Cortina, da sabato 17, arte di Sambini in mostra con gli studenti del liceo. Passiamo allo sport bellunese, pagina 36, Palla Volo, festa per la Darold Belluno, la serie a tre ora è ufficiale. Ieri sera è arrivato il via della commissione a missioni della Lega Volley, intanto la spessa apre a una possibile collaborazione nelle giovanili. L'invito del CT azzurro, Cerentini invita i giovani a provare lo sciderba. Domani siamo a Quantin. Calcio, seredile alla Dolomiti Bellunesi, pensa al ritorno del bomber Rocco. L'attaccante ha lasciato un grande ricordo a Belluno, intanto ha firmato Dario Teso e si compleca un po' la permanenza di Spencer. I ritiri in Cadore, Venezia già in campo dopo l'arrivo a San Vito, Lazio voglia di Sarri sugli spalti, Auronzani. Passiamo alle previsioni del meteo in Veneto per la giornata di domani, prima di salutarci, precipitazioni, probabilità medio-bassa sulla pianura e medio-alta sui monti per pioggi in vari momenti della giornata. Venti deboli moderati in alta montagna, da sud-ovest e ad altrove con direzione variabile, mare da mosso a poco mosso col passare delle ore. Temperature in calo rispetto a martedì, anche di molto nelle ore diurne. È davvero tutto per questa edizione di Edicola Belluno. Vi ricordo che torneremo in replica via streaming questa sera alle 20, domani mattina a luna, ora locale italiana. A voi tutti un buon proseguimento di giornata, in compagnia come sempre di Radio ABM, la web radio dell'Associazione Bellunesi nel Mondo. Grazie.